tudor black bay lunetta blu eleganza e tecnologia se stai cercando un orologio da polso che unisca eleganza e tecnologia il black bay lunetta blu è la scelta perfetta per te il black bay lunetta blu fa parte della collezione black bay lanciata nel 2012 dalla casa orologera svizzera tudor questa collezione si ispira gli orologi da immersione storici della marca che hanno accompagnato gli esploratori marini dal 1954 la lunetta blu serve a misurare il tempo di immersione è uno degli elementi distintivi del black bay lunetta blu che gli conferisce un aspetto audace e contemporaneo il colore blu infatti richiama il mare e la libertà e si abbina perfettamente con la cassa in acciaio inossidabile che garantisce una resistenza all'acqua fino a 200 metri il black bay lunetta blu è disponibile in due versioni una con il quadrante nero e una con il quadrante blu la versione con il quadrante nero ha un aspetto più classico e discreto che si ispira agli orologi da immersione storici di tudor il quadrante nero in contrasto con le lancette e gli indici a bicchiere sono riempiti con una sostanza luminescente per garantire una leggibilità ottimale in ogni condizione di luce il quadrante nero è anche decorato con il logo tudor a forma di stemma della famiglia reale che richiama la dinastia tudor la versione con il quadrante blu ha un aspetto più moderno e dinamico che esprime il carattere innovativo e audace di tudor il quadrante blu ha la stessa tonalità della lunetta creando un effetto di continuità e di armonia il quadrante blu è impreziosito dalle lancette e dagli indici color argento che sono anch'essi luminescenti per una facile lettura dell'ora il quadrante blu è inoltre ornato con il logo tudor a forma di scudo che simboleggia la forza e la resistenza che conferisce un aspetto di pulizia e di sobrietà la versione con il quadrante blu chiamata anche blu nevi ha ricevuto nel 2020 il prestigioso premio challenge watch prize al grand prix d'orlogerie de geneve il più importante concorso internazionale di orologeria questo premio viene assegnato al miglior orologio nella categoria challenge che comprende il segnatempo con un prezzo inferiore a 4000 franchi svizzeri il grand prix d'orlogerie de geneve è una manifestazione annuale che celebra l'eccellenza e la creatività dell'orologeria contemporanea e che assegna diversi premi in varie categorie tra cui il prestigioso edu il dor ago d'oro che premia il miglior orologio dell'anno il cuore di questo orologio è il movimento automatico calibro mt 5402 che offre una precisione cronometrica e una riserva di carica di circa 70 ore il movimento è inoltre certificato dal cost controllo ufficiale svizzero dei cronometri che garantisce la sua qualità e la sua affidabilità il black bay lunetta blu ha anche un vetro zaffiro bombato che protegge il quadrante da graffi e urti il cinturino è disponibile in tre opzioni bracciale in acciaio cinturino in tessuto o cinturino in pelle